buonasera eccoci con il fantastico gioco del magic andrea qui abbiamo due oggetti facili da poter rimediare un anello ed un elastico questo gioco voglio proporlo anche da voi a casa e sarà con spiegazione gioco molto bello con un effetto incredibile andiamo a vedere subito come si fa prendiamo l'anello e mettiamo dentro un elastico quindi andiamo a prendere l'elastico con pollice d'indice quindi proviamo ad uscire provateci da casa vediamo se ci riuscite troverete che sarà impossibile e c'è ovviamente un segreto qual è il segreto è la parola magica abracadabra con il soffio 1 2 e 3 e magicamente si esce da questa posizione come è possibile guardate brilla anche l'anello questa fantastica magia ha tra poco la spiegazione mi raccomando però prima fate tanti tanti like su questo video che ne andremo a fare poi altrettanto ciao a tra pochissimo eccoci qua per la spiegazione ragazzi guardate ancora l'anello brilla perché è magico andiamo ad inserire ora ecco la spiegazione di questo fantastico gioco l'elastico dentro l'anello ora come avete visto prima l'uscita è stata veramente incredibile questo effetto si può realizzare in 34 16 tra virgolette semplici passaggi basta stare attenti a quello che facciamo e guardate bene quindi 1 prendete il medio andate a tirare la parte elastico qua sotto lasciate l'indice riprendete l'indice che va dentro questa cappia e lasciate il medio che può quindi così e ecco che la magia è appena avvenuta spero che sia stato visto bene dalla telecamera lo andiamo a rivedere e quindi di nuovo insieme avete il pollice l'indice così quindi sotto il medio si lascia l'indice si riprende e si lascia andando a sbattere sull'anello così in modo tale che ci sia un effetto di uscita ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto vi ripeto nuovamente like su questo fantastico video che poi ne faremo tanti altri magic andrea sempre per voi ciao ciao